Nuova puntata per fare il consueto reso conto della giornata finanziaria con un titolo però della puntata che già dice tutto quindi praticamente prima andremo a analizzare quello che è successo un po' in giornata e poi faremo un po' un ragionamento una riflessione su quello che è la situazione italiana quindi partiamo subito dalla notizia del giorno che Nike la grande azienda di abbigliamento conosciuto più per le scarpe che per tutto il resto devo dire la sincera verità e beh oggi perde un 20% che è una cifra considerevole visto che parliamo di un gruppo molto solito a livello mondiale non solo americano e praticamente hanno previsto una contrazione delle vendite quest'anno invece di un modesto però comunque modesto incremento che era stimato dagli analisti e non solo un ritorno a un incremento beh richiederà del tempo questo ha detto Matt Friend praticamente la situazione non è proprio del tutto positiva per Nike potrebbe essere l'inizio di un crollo di un gigante punto di domanda l'unica nota positiva comunque guardando il bilancio è sicuramente il fatto che le vendite nella Cina hanno superato le previsioni per il resto la situazione è abbastanza tranquilla i listini andavano molto bene fino a fine giornata dove hanno perso un bel po' non una grossa cifra ma in termini assoluti se si va a vedere dai massimi ai minimi beh erano bene in positivo e hanno finito in negativo il che non lascia presagire dal mio punto di vista niente di buono per la prossima settimana interessante le altre notizie con Nokia che acquisisce Infine Corporation per 2,3 miliardi e Microsoft che incomincia a collaborare con Amazon per portare Xbox su alcuni dispositivi di Fire TV Meta che sta per testare un chatbot di intelligenza artificiale su Instagram e Apple che sta studiando una tecnologia per rendere più facile la sostituzione delle batterie nell'iPhone e detto questo passiamo a casa nostra dove oggi sinceramente beh devo dire proprio la sincera verità proprio dal profondo del cuore si incominciano a fare i primi ragionamenti su quella che sono stati i primi sei mesi di fatto ormai è finito il semestre e si incomincia a tirare un po' le somme beh c'è da dire che una delle delusioni più grosse quest'anno secondo me o meglio questi primi sei mesi questo primo semestre è sicuramente Stellantis era partita molto bene e ci ritroviamo invece con un meno 12,67 con un crollo soprattutto negli ultimi tempi dopo aver dato l'ultima trimestrale si è capito abbastanza bene che potrebbe essere l'inizio di una crisi per Stellantis e vedremo come riuscirà a reagire un altro brutto colpo quest'anno parliamo di percentuali da inizio anno Stellantis per il 12,67 da inizio anno un altro brutto colpo secondo me l'ha preso STM soprattutto se lo paragoniamo ad altre aziende del settore dei microchip perché da inizio dell'anno perde il 18,44% e l'azienda italo francese deve capire cosa vuol fare del proprio futuro perché se perde adesso che tutte le altre vanno bene in un settore che va non bene di più come quello dell'intelligenza artificiale anche se STM non è che c'entra moltissimo però indirettamente ne dovevo quantomeno avere degli effetti positivi che non si sono visti malissimo Telecom ma questa è storia vecchia meno 24% per Telecom ma male anche Eterna, Tenaris comunque aziende che non sono solitamente aziende che perdono tantissimo quando chiaramente le materie prime vanno bene come sono andate bene quest'anno molto molto male anche Nexi ma anche qui parliamo di una storia vecchia meno 23,12% ed Erg meno 18,78% Interpampe meno 11,50% e potrei fare altre situazioni ma la cosa che mi lascio più perplesso è che negli ultimi periodi si sta vedendo un po' che gli analisti incominciano ad abbassare i prezzi obiettivi delle aziende anche oggi è un paio mi sono abbalzato agli occhi perché Salvatore Ferragamo gli analisti hanno abbassato l'obiettivo di prezzo da 8 a 7 euro per esempio per quanto riguarda BNP Paripass ma anche altre aziende Barclays da 9 a 8 ma un po' tutte hanno abbassato il prezzo obiettivo stessa cosa per quanto riguarda Eterna, Golden Sacks ha abbassato il prezzo obiettivo da 7,95 a 7,60 e questo è un trend che sto vedendo da un po' di tempo tra l'altro oggi per curiosità sono andato a vedere un po' quante azioni hanno guadagnato da inizio anno e quante azioni hanno perso del nostro Mib sinceramente per essere un listino che ha guadagnato il 9,2% se non ricordo male ebbene c'è da dire che ci sono ben 17 aziende che da inizio anno vanno in negativo quasi la metà che è un bel po' di aziende per essere comunque un listino che ha fatto il 9,2% l'azienda che ha guadagnato di più quest'anno stranamente è Unipol che è una delle aziende più stabili in assoluto quindi poco volatili ed addirittura nell'ultimo anno ha guadagnato, negli ultimi tre anni ha guadagnato il 115% quindi questo fa capire abbastanza bene quanto secondo me il nostro listino vada bene solo per aziende molto molto stabili anche i bancari che da un bel po' stanno facendo davvero bene stanno soffrendo davvero tantissimo nell'ultimo periodo quasi tutti ormai sono in negativo da inizio anno e questo fa riflettere davvero molto scusate nell'ultimo mese, non nell'ultimo anno fa riflettere davvero molto come mai tutti i bancari nell'ultimo mese sono praticamente tutte quante in negativo quando da inizio anno tutti i bancari erano veramente molto in positivo chi 10, chi 20, chi 30, chi addirittura 40% Unicredit ancora più 40% da inizio anno nonostante nell'ultimo mese abbia perso il 4% ed è una di quelle che è andata meglio e quindi questo è un trend abbastanza chiaro nell'ultimo mese le cose stanno andando a dando non benissimo se poi a tutto questo ci aggiungiamo la situazione politica con una parte l'Italia che arranca in Europa nonostante le elezioni abbiano praticamente confermato la linea politica del governo in Europa non si fa breccia visto che l'Italia di fatto è stata esclusa da qualsiasi tipo di decisione e questo fine settimana avremo anche le elezioni in Francia e beh lì sarà un'altra incognita per vedere poi cosa ne uscirà fuori e che governo soprattutto ne uscirà fuori e come questo praticamente influirà il tutto a livello europeo ma soprattutto a livello del mercato ricordiamo che negli ultimi periodi da quando di fatto è stata annunciata nuova elezione in Francia e beh il listino francese ha perso il 10% quindi in poco più di qualche settimana e questo è un'altra cosa che fa riflettere molto cioè la questione geopolitica non è che di certo va a favore dell'Europa e quindi delle azioni europee in Italia ancora peggio tutto questo ci porta a dare una risposta molto semplice alla domanda è ora di vendere le azioni italiane beh guardando i numeri si direbbe di sì ma forse è meglio non aspettare il tutto e quantomeno aspettare il 7 di luglio cioè vedere un po' come vanno le elezioni in Francia e vedere come si evolve la cosa perché se ci nascesse a livello europeo un asse italo-francese beh cambierebbe un po' tutto anche perché dietro a loro sicuramente si accoderebbero un po' un po' di nazioni e soprattutto vedere se l'Europa si riprenderà da questo piccolo periodo di crisi economica o no e l'Italia si uscirà un po' da questa fase che sembra abbastanza chiaro essere una fase di stagnazione che somiglia molto all'epoca pre-Covid tant'è che anche l'inflazione si è stabilizzata sotto l'1% cosa stranissima per una nazione che un anno e mezzo fa aveva battuto i record a livello delle big in Europa ed era arrivata al 12,5% ricordiamo ottobre 2022 se non ricordo male quindi molto molto strane queste cose qua oggi come oggi beh bisogna stare davvero molto attenti dal mio punto di vista a investire in Italia e soprattutto sui bancari visto che a quanto pare uno o due tagli ci saranno quasi sicuramente io starei davvero abbastanza alla larga per oggi ragazzi è proprio tutto vi raccomando un'occhiata a tutto quello che c'è scritto in descrizione il link al mio libro e un'occhiata al sito giuseppecioscia.com non è mai male ragazzi con questo è proprio tutto a me non mi rimane che ricordarvi che siete sempre sotto il fuoco nemico grazie a tutti